ciao ciao a tutti amici oggi sono qui con un video un po' diverso dal solito un po' particolare sicuramente saprete che qualche giorno fa è morto Piero Angela giornalista divulgatore scientifico una figura sicuramente rilevante dal punto di vista culturale sociale per la storia del nostro paese combinazione ho incrociato praticamente in tempo reale il post di suo figlio Alberto che scriveva buon viaggio papà e naturalmente il primo il primo sentimento il primo pensiero è stato di empatia nei confronti di un figlio che perde suo padre subito dopo però ho pensato chissà se adesso il signor Piero si è accorto che c'è qualcosa al di là di ciò che è dimostrabile scientificamente sapete che Piero Angela ha sempre osteggiato tutto ciò che si può definire pseudoscienza con abbastanza vigore tra l'altro ha osteggiato l'omeopatia ha osteggiato l'astrologia ha anche cercato di denigrare Gustavo Roll famosissimo sensitivo quindi non soltanto ignorava quella parte non razionale ma come dire combatteva affinché tutti si convincessero che solo ciò che è scientificamente dimostrabile ha senso molti di voi sanno molti altri magari no che io ho una formazione scientifica che ho sempre amato moltissimo le scienze ho una laurea in chimica industriale ho lavorato per 25 anni in un laboratorio di ricerca in un ospedale privato quindi molte volte mi sono espressa in materia conosco bene i limiti della scienza essere scienziati non significa necessariamente negare a ciò che è invisibile quindi quando mi trovo di fronte a un pragmatismo così esasperato mi chiedo sempre perché allora mi è venuta la curiosità di andare a vedere il tema natale di Piero Angela ho trovato in rete i dati risulta nato a Torino il 22 dicembre del 1928 alle 4 del mattino ho provato a verificare l'ora di nascita sapete che comunque gli orari indicati anche sui documenti non sempre sono affidabili non sempre effettivamente corrispondono all'ora effettiva di nascita purtroppo non ho molte informazioni su Piero Angela non lo seguivo come personaggio ma soprattutto una persona molto riservata e quindi si sa pochissimo l'unica cosa è che ho sia la data di nascita di suo figlio Alberto che però non è il primo figlio perché lui ha anche una figlia più grande Christine di cui si sa veramente pochissimo se non niente e ho la data di nascita e di morte soprattutto del padre Carlo Angela famoso medico politico di cui poi parlerò ampiamente perché secondo me è una figura centrale quindi utilizzando queste due informazioni cioè il giorno della morte del padre e il giorno della nascita del figlio Alberto ho provato a rettificare l'ora di nascita utilizzando transiti progressioni e rivoluzione solare e secondo me Piero Angela è nato alle 3 e 35 non è che cambi moltissimo l'unica cosa che cambia veramente è la posizione di Chirone che nel caso delle 3 e 35 si trova sul discendente mentre se fosse nato alle 4 sarebbe in sesta casa e non mi torna moltissimo ma poi andiamo a all'idea insieme allora perché ho pensato di fare questo video perché mentre cercavo di comprendere quale fosse la ragione per cui lui era così fermo nella sua opposizione al paranormale a quelle che appunto chiamava pseudoscienze al punto che ha poi fondato o ispirato insomma la fondazione del ciccap sapete quel comitato appunto di controllo dell'attività delle pseudoscienze ho pensato proprio perché non farci un video per mostrare come l'interpretazione del tema natale dal punto di vista dell'astrologia evolutiva karmica e transgenerazionale ci può aiutare a vedere quali sono le immagini perturbate i famosi samskara che sono depositate nella psiche profonda e che sono quelle che poi la persona deve andare a rintracciare a trasformare a pacificare per poter diventare attrice protagonista del proprio destino ho pensato che potesse servire questo video così avete un'idea di come lavoro io di fronte a un tema natale di quale informazione posso recuperare è un esercizio ecco perché ho chiamato questo questo video un po come fosse il primo di una rubrica il laboratorio dell'astrologia per fare anima per cercare di interpretare i messaggi che arrivano da questo mandala che è il tema natale allora voglio fare qualche premessa fondamentale la prima la più importante non faccio questa interpretazione nel tema natale di piero angela per giudicare per criticare per sentenziare sulla vita di piero angela lo faccio con il massimo rispetto soprattutto perché siamo di fronte a una persona nata nel 1928 che ha vissuto sulla propria pelle gli orrori della guerra che ha avuto parecchie difficoltà nella sua vita fatto un po di ricerche in questi giorni quindi ho scoperto per esempio che è nato con una salute piuttosto cagionevole ha vissuto sicuramente molti traumi legati alla persecuzione degli ebrei suo padre nascondeva gli ebrei nella clinica per malati mentali di cui era direttore sanitario e per questo è stato insignito di un'onoreficenza postumare tirata appunto dai figli nel 2000 non ricordo comunque negli anni 2000 insomma quindi molto tempo dopo la sua morte e e appunto piero angela ragazzino ha assistito anche eventi parecchio traumatici suo padre per un pelo non è stato fucilato a causa di questo suo padre che appunto dicevo è stato insignito di questo onoreficenza giusto tra le nazioni che veniva data a chi viene data a chi si distingue per aver difeso delle persone in pericolo mettendo in pericolo la sua stessa vita senza guadagnarci nulla quindi un uomo che come piero angela disse lui stesso aveva un grande senso del dovere anche lui capricorno anche carlo angela padre di piero angela era capricorno e con grandi ideali e poi ha vissuto il trauma della perita del padre a vent'anni quindi ripeto io mi avvicino a qualunque tema natale con grandissimo rispetto perché un tema natale è la rappresentazione del mito che la persona mette sulla scena della vita vivendo ed è una rappresentazione simbolica della sua anima quindi merita tantissimo rispetto e non dico questo perché devo celebrare per forza una persona dal momento che è morta assolutamente io non penso che le persone nel momento in cui muoiono diventano dei santi facciano i miracoli e quindi bisogna per forza parlare bene dei morti questa è una cosa terribilmente ipocrita anzi credo che spesso si parli male cioè si parli bene dei morti perché si ha paura si ha paura che di notte vengano a tirarci i piedi come diceva credo uno dei miei bisnonni quindi anzi io trovo molto molto buffa questa cosa per cui per cui si debba per forza parlare bene dei morti ma non sono qui né a celebrarlo né a giudicarlo questo è un esercizio di interpretazione di un tema natale per mostrarvi proprio come simboli astrologici possono aiutarci a comprendere quali sono le immagini inconsce le immagini sepolte nella psiche profonda che condizionano la nostra vita e che se non vengono pacificate poi ci rendono le cose difficili altra premessa importantissima quella che faccio sempre quando lavoro con il tema natale di qualcuno e cioè che questo grafico che adesso vedremo insieme vedremo insieme il grafico del tema natale di piero angela è un mandala anzi lo metto addirittura sul sullo schermo così potete iniziare a guardarlo no ma non è qui allora vediamo dove lo troviamo eccolo qua questo è il tema natale di piero angela nato a torino il 22 dicembre 1928 secondo me alle 3 35 ripeto loro ufficiale sono le 4 non cambierebbe granché allora questo è un mandala un'immagine sacra un'impronta unica che ha una sua vibrazione energetica è l'energia potenziale che ha l'anima nel momento in cui sceglie di incarnarsi in quel determinato corpo di vestire quell'abito quella personalità per fare un'esperienza terrena e imparare qualcosa quindi l'anima arriva con un bagaglio che ha fatto di risorse talenti lezioni apprese ma anche ovviamente sbagli cadute lezioni da imparare traumi che appartengono sia alla sua storia quindi proprio al karma individuale dell'anima sia alla storia della famiglia in cui l'anima sceglie di incarnarsi perché l'anima sceglie la famiglia in cui incarnarsi proprio perché in quella famiglia troverà quelle immagini che fanno parte dell'inconscio che non è soltanto l'inconscio familiare ma anche l'inconscio gruppale cioè del gruppo di anime cui l'anima appartiene se vogliamo proprio essere precisi dobbiamo anche dire che non è proprio l'anima da sola che sceglie semplicemente l'anima come dire acconsente entrare nel gioco cosmico quindi acconsente a tutto quello che è il disegno cosmico che è qualcosa di imperscrutabile di misterioso nel al quale in realtà tutti noi dobbiamo solo inchinarci quindi interpretare questo mandala significa andare a cercare le immagini sepolte nella psiche profonda che appartengono sia alle vite passate sia alle vicende familiari della famiglia in cui l'anima è andata a incarnarsi altra premessa importantissima io adesso farò un'ipotesi di interpretazione ve l'ho detto ho pochissime notizie quindi innanzitutto precisiamo che una cosa è interpretare il tema natale di una persona che si rivolge a me che mi porta un suo vissuto un suo contesto un suo obiettivo un suo disagio e alla volontà di fare un lavoro su di sé ha un obiettivo chiaro da raggiungere una cosa è lavorare sul tema natale di una persona che io non ho mai conosciuto di cui so pochissimo che oltretutto ha terminato la sua incarnazione quindi ripeto e ci tengo proprio a sottolineare questa cosa lo utilizziamo come esercizio facciamo delle ipotesi cercherò di mostrarvi come io arrivo a vedere questa immagine questo mi tema questo tema mitico mitologico sapete come diceva platone nel mito di erno concetto poi ripreso anche da il ma come diciamo sempre un approccio immaginale noi viviamo mettendo sulla scena della vita un mito e vedere questo mito riconoscerlo e cambiarne il finale ci permette di liberarci dalla sofferenza di riscattarci di riscattare anche i nostri antenati e realizzare quindi il compito della nostra esistenza per cui adesso cerchiamo di vedere questa immagine quindi lo ripeto non c'è nessuna intenzione di giudizio anzi può darsi che dirò delle cose che non corrispondono assolutamente a quello che è accaduto nella vita di piero angelo dei suoi antenati può darsi questa è una riflessione importante da fare che faccio spessissimo può darsi che il viaggio che lui ha fatto fosse esattamente quello che lui doveva fare anche se magari non sembra non sappiamo come lui ha trasformato questa energia questa qualità energetica della sua anima nel suo percorso terreno può anche essere che dall'esterno noi non l'abbiamo vista questa trasformazione magari l'hanno vista le persone a lui vicino magari negli ultimi tempi della sua vita oppure nessuno l'ha vista ma è accaduta anteriormente questo noi non lo possiamo sapere che qui la mente umana si ferma quindi magari il suo viaggio è stato esattamente come la sua anima l'aveva previsto oppure no non possiamo saperlo vi ricordo a proposito che dal tema natale non si vede il livello evolutivo di un'anima quindi non si vede nemmeno se l'anima ha portato a termine il compito che si era assegnato facciamo che questa è una specie di lezione di astrologia un'esercitazione allora cominciamo primo sguardo cosa vediamo anche chi conosce poco l'astrologia si accorge che qui c'è uno strano disegno che è la forma di aquilone o cometa cosmica qualcuno lo chiama quindi ci sono una manciata di grandi trigoni alcuni sono proprio di terra perché connettono nettuno in vergine chirona in toro e sole mercurio in capricorno altri sono misti nel senso che coinvolgono due pianeti di terra e uno di fuoco oppure uno di terra e due di fuoco vedete saturno in sagittario la luna in ariete connessi con nettuno in vergine quindi grandi trigoni qui abbiamo l'opposizione però si forma anche l'aquilone che coinvolge questo marte in ottava che è importantissimo e c'è l'opposizione tra marte sole e mercurio e anche l'opposizione tra marte saturno comunque va bene questa è la prima cosa che si vede a occhio in realtà io ripeto spesso l'astrologia non si fa quelle del siero sinistro non si fa analizzando in maniera precisa sezionando il tema natale anche perché non è necessario andare ad interpretare tutto quello che vediamo in un tema natale perché il tema natale è ridondante quindi continua a ripetermi le stesse cose continua a mettermi davanti agli occhi la stessa immagine e vi dico questo già che l'immagine che arriva da questo tema natale che è arrivata a me guardando questo tema natale è già scritta nel suo nome e cognome Piero Angela adesso andiamo a vedere perché allora sole sole 0 gradi del capricorno bastava pochi minuti sarebbe stato del segno del sagittario ma non è una cuspide e qui colgo l'occasione per ricordarvi che non esistono le cuspidi o meglio cuspide è un termine che si riferisce alle case alle case ai settori vedete i settori qui ci sono sempre questi numerini così vi ripeto anche alcune delle cose che dico nel tutorial al quale rimando spesso per andare a vedere dove cadono lunazione transi nel proprio tema natale ribadisco anche qui non esistono le cuspidi quindi Piero Angela non era cuspide sagittario capricorno lui era capricorno perché se io decido di nascere nel momento in cui il sole è già passato nel segno del capricorno è perché l'energia che io devo incarnare è quella del capricorno o meglio l'energia alla quale devo arrivare naturalmente si tratterà di fare un salto quantico perché nel tema natale noi vediamo anche il salto quantico ma ne parlerò magari meglio in un altro video quindi arrivo con un'energia capricorno ombra e devo trasformarla nell'energia capricorno luce non facile perché siamo a zero gradi del segno quindi proprio all'inizio del segno quindi evolutivamente come se lui si approcciasse a questa energia per la prima volta e zero gradi è un grado critico dove appunto il segno si manifesta maggiormente nella sua ombra soprattutto nella prima parte della vita capricorno segno di terra governato da saturno che appartiene sempre a persone molto razionali che hanno soprattutto bisogno di darsi delle sicurezze materiali che puntano ad avere un riconoscimento sociale di qualche tipo puntano a raggiungere il successo sono in genere persone ambiziose e quando attenzione a questo quando nel sistema familiare nasce un capricorno significa che c'è una memoria di insicurezza emotiva di instabilità emotiva molto forte nella famiglia come vi dicevo anche il padre carlo angela era del segno del capricorno era nato il 9 gennaio del 1875 quindi quando piero angelo è nato aveva già 53 anni e qui vi do subito una notizia importantissima che è quella che mi ha colpito maggiormente e che secondo me è l'immagine forte che stiamo in qualche modo cercando e cioè la madre di carlo angela quindi la nonna paterna di piero angela morì di parto proprio nel dare alla luce suo padre cioè carlo angela questa è un'immagine fortissima e tra l'altro la nonna paterna questa donna che morì dando alla luce il padre di piero angela si chiamava angela di nome mentre il nonno paterno si chiamava pietro ecco qui abbiamo già dei simboli molto forti quindi piero angela portava il nome del nonno perché piero e pietro sono lo stesso nome e il nome della nonna paterna morta di parto nel dare alla luce proprio suo padre che poi anche il cognome angela nulla che da caso questo è un simbolo fortissimo un'immagine fortissima dal punto di vista transgenerazionale quindi abbiamo detto poi ci torno su questa cosa capricorno segno estremamente razionale materialista conservatore che però lo ricordo dal punto di vista esoterico ha come compito quello di spezzare il legame con la materia e la forma e inseguire una meta spirituale assumendosi responsabilità per il bene collettivo governatore esoterico del capricorno saturno esattamente come il suo governatore diciamo così classico l'ascendente è scorpione questo già ci dice una cosa molto importante sapete che l'abbinata segno ascendente già ci mostra le possibili immagini che descrivono il progetto senso dell'anima cos'è il progetto senso è l'insieme dei desideri delle aspettative non realizzate dai genitori nei 18 mesi prima della nascita forse anche prima dei 18 mesi quindi quando nella segno o nell'ascendente c'è lo scorpione sempre 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 c'è una memoria di perdita molto forte sempre c'è una memoria di morte di abbandono di tradimento di violenza sempre quindi secondo me questo ascendente scorpione rimanda a quel martin ottava casa collegato alla morte della nonna di parto è un'ipotesi naturalmente qual è l'immagine ovviamente la ogni abbinata segno ascendente offre diciamo così più immagini poi bisogna andare a vedere tutti gli altri simboli del tema natale per comprendere qual è quella principale però un capricorno ascendente scorpione si porta un'immagine del tipo affinché io sopravviva qualcun altro deve morire e bert hellinger padre delle costellazioni familiari ci insegna molto bene che quando c'è un movimento interrotto come appunto una donna che muore di parto il figlio si porta dentro la spinta verso la morte perché c'è il desiderio inconscio questo accade in tante altre situazioni ma mi soffermo ovviamente su questa sennò questo video dura quattro ore ecco ma il figlio si porta dietro il desiderio di ricongiungersi alla madre e il senso di colpa per essere vivo queste sono immagini molto forti andiamo avanti cos'altro c'è qui di interessante sole congiunto a mercurio in capricorno sappiamo che mercurio tecnicamente non può mai essere troppo lontano dal sole arriva una distanza massima di 28 gradi ma quando si trova a meno di 10 gradi congiunto con il sole si dice che mercurio è combusto in questo caso decisamente abbiamo un sole combusto con mercurio anche qui sentirete dire da una vecchia astrologia che l'astrologia come tutto si evolve quindi come un tempo non si sapeva che esistesse urano lettuno e plutone adesso andiamo avanti scoprendo sempre altri corpi celesti cambia anche il modo in cui si utilizzano questi simboli quindi un tempo avrete sentito dire magari che mercurio combusto è un mercurio che non viene facilmente utilizzato le persone con mercurio combusto avrebbero difficoltà a memorizzare a utilizzare le informazioni a comunicare io ho lessi questa cosa molti anni fa e fui subito molto resti a crederci perché io ho sole congiunto a mercurio proprio a zero gradi in scorpione però e sinceramente ho una memoria ottima ho sempre avuto grande memoria e non mi sembra di avere problemi di comunicazione e non ce li aveva sicuramente nemmeno piero angela ok quindi mercurio combusto in realtà è caratteristico di una mente brillante acuta ricettiva che processa continuamente informazioni semmai un mercurio combusto spesso è bulimico di informazioni e il rischio è che la persona si identifichi con la sua mente perché mercurio ve lo ricordo è la mente irrazionale la mente inferiore mentre urano sua ottava superiore è la mente superiore appunto e questo aspetto in realtà appartiene individui nati per comunicare e infatti però angela era una persona di grandissima cultura molto curioso con una grande capacità di comunicare anche in maniera semplice era in grado di portare grandi argomenti alla portata di tutti quindi abbiamo sole congiunto mercurio congiunto a saturno che è il governatore del capricorno in seconda casa non ci stupisce affatto che quest'uomo abbia cercato la sicurezza siamo nella seconda casa la casa dei valori delle risorse ma anche dell'attaccamento a ciò che è materiale l'uso dei cinque sensi per contattare la vita quindi ha cercato la sicurezza nella razionalità nella logica in ciò che si tocca si 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 sente coi cinque sensi saturno il sagittario ci suggerisce anche che quest'uomo forse era un po attaccato le sue credenze saturno il sagittario possiamo immaginarci che in una vita passata ci sia stata una sorta di fanatismo anche religioso comunque sicuramente in una vita passata ha rivestito un ruolo importante di leader in qualche gruppo filosofico religioso tra l'altro abbiamo anche la lilith in sagittario che cos'è la lilith la lilith rappresenta l'esclusa dal sistema di solito è una polarità femminile quindi una figura femminile o anche una figura maschile ma con una forte polarità femminile l'esclusa dal sistema e rappresenta anche la nostra paura più grande nel tema natale quindi questa lilith che cosa ci dice ci dice che la sua paura più grande era quella di non trovare un senso e un significato di non trovare la verità andiamo a vedere adesso venere venere in acquario venere in acquario tecnicamente è isolata perché vedete non fa nessun aspetto maggiore con gli altri pianeti l'unico aspetto che fa è la quadratura con chirone per la verità fa anche se stile con lilith guarda un po e lilith e chirone sono la ferita la ferita e la paura più grande quella venere in acquario è tecnicamente isolata e fa aspetti solo con chirone e con lilith allora quando un pianeta è isolato fa molta fatica ad esprimersi intanto vi dico venere in acquario dove ci rimanda a urano governatore dell'acquario urano che lo vedete subito ha un ruolo importantissimo in questo tema natale perché questo urano riceve solo aspetti dinamici jung diceva gli aspetti dinamici nel tema natale sono le vite non vissute dagli antenati questo urano leso urano in quinta casa la casa del sole che quadra il sole oltre che mercurio urano in ariete governato da marte che quadra marte in ottava casa a 29 gradi dei gemelli grado critico e fa qui in coce con nettuno poi gli andiamo a vedere tutti questi aspetti però già come primo impatto noi abbiamo un urano leso e quell'urano in quinta ci fa pensare l'astrologia direbbe in maniera molto semplice quella storia molto semplice no ti dice subito e caspita urano in quinta questo qui è uno che era molto creativo molto innovativo molto originale uno che amava la libertà che andava alla ricerca di una sua verità interiore quindi una un forte processo di individuazione un outsider poi una venere in acquario cioè ci fa pensare una persona che faceva fatica a creare dei legami stabili no una persona con venere in acquario e urano in quinta casa e però 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 quell'urano è leso quella venere è isolata quindi in realtà la difficoltà per lui era proprio conciliare due aspetti opposti io immagino che in quest'uomo ci sia stato un grande conflitto tra la parte più istintiva più impetuosa e la parte più conservatrice allora vi dicevo di questa venere in acquario venere in acquario può esprimersi in almeno tre modi essendo in questo caso isolata come dicevo è più facile che si esprima attraverso il cosiddetto paradosso uraniano vi ricordo che l'acquario anticamente era governato da saturno poi quando è stato scoperto urano al segno dell'acquario è stato associato urano allora quando abbiamo a che fare con l'archetipo acquario a volte succede che si esprima in realtà con un grande attaccamento al passato è una manifestazione paradossale quindi venere in acquario non è ribelle non si ribella al gruppo della società del consenso ma anzi va addirittura ancora più indietro nel tempo e si aggancia a qualcosa di molto tradizionale quindi c'è molto conservatorismo quindi molto conservatore si esprime in maniera così venere in acquario urano in quinta allora vorrei anche sottolineare che in qualche modo quest'uomo è stato un innovatore in qualche modo lui ha portato qualcosa di nuovo di originale lui è stato il primo a portare la scienza in televisione quindi quest'uranio in quinta casa si è espresso in qualche modo certo è rimasto comunque dentro un confine perché? perché per lui era troppo importante avere una posizione di spicco qui c'è una memoria antica di un'anima che è appartenuta forse anche addirittura a una famiglia reale era abituato ad avere un ruolo di leader era abituato ad avere un riconoscimento e aveva bisogno di quel riconoscimento era il suo modo per sentirsi al sicuro e quindi non poteva rischiare di sganciarsi troppo da una visione come dire conservatrice appunto quindi una visione positivista razionale patricentrica è un uomo che è rimasto comunque fedele a sua moglie per 66 anni credo siano stati sposati e alla RAI alla TV di Stato per 70 anni e lui scherzando disse come la regina Elisabetta col suo regno ma infatti anche la regina Elisabetta sappiamo che lei è del segno del toro però sappiamo che l'archetipo Capricorno l'archetipo Saturno nella famiglia reale c'è un video qui sul mio canale in cui appunto ho parlato di questo è molto forte ecco diciamo che con quella venere in acquario noi ci aspetteremo una persona un pochino più ribelle per questo io dico probabilmente c'era un conflitto dentro di lui sicuramente una grande curiosità magari anche questa smania di conoscere troppe cose gli ha impedito di andare più in profondità però però ripeto c'è un'espressione di questa originalità è stato in qualche modo un innovatore ma in conflitto con un grande bisogno di sicurezza allora andiamo a vedere Marte Marte ho detto retrogrado Marte retrogrado è importante questa cosa 29 gradi dei gemelli in ottava casa molto importante questa croce a T che si forma ecco adesso io sto facendo un'analisi di ogni singolo componente sto andando come dire a illuminare dei pezzettini del puzzle in realtà poi quello a cui voglio arrivare è l'immagine che mi è arrivata immediatamente guardando il tema natale e che poi mi si è chiarita quando ho scoperto questa cosa della morte della nonna paterna quindi urano principio di individuazione dovrebbe esprimersi in modo differente quindi esprimo me stesso indipendentemente da quello che gli altri dicono ma Marte in gemelli cosa dovrebbe fare un Marte in gemelli? Marte in gemelli vi ricordo che Marte è sempre a servizio di Plutone adesso ci arriviamo a quel Plutone in nonna che in realtà dovrebbe essere la prima cosa da vedere Plutone intento evolutivo dell'anima Marte come agisco per soddisfare l'intento evolutivo dell'anima? Allora Marte in gemelli desidera mettere in dubbio ogni opinione comune è curioso ha tanti obiettivi deve arrivare ad avere una sua filosofia una sua verità interiore unica individuale però è retrogrado quindi in realtà qui la persona dovrebbe fare un grande lavoro interiore oltretutto in ottava casa per andare a riesaminare tutto quello che apprende ricordiamoci che l'asse gemelli sagittario ha a che fare con la conoscenza e con la coscienza e lui sull'asse gemelli sagittario ha anche i nodi adesso poi ci arrivo a questa cosa dei nodi finisco un attimo il discorso di Marte perché è importante è importante perché quel Marte è in ottava casa e l'ottava casa è la casa dove c'è l'eredità degli antenati è il ponte tra gli antenati se superiore e l'ego nell'ottava casa c'è la riconciliazione degli opposti l'incontro tra vita e morte qui Marte è un guerriero ma il guerriero per cosa combatte è la coscienza lo stato di coscienza che decide per cosa combatte Marte e questo è attualissimo perché domani arriva il video su Marte in gemelli Marte entra in gemelli il 20 di agosto ci rimane per 7 mesi circa quindi poi questo discorso sarà interessante per tutti noi ma attenzione un Marte in gemelli in ottava dovrebbe combattere per superare le sue paure per affrontare i suoi tabù e portare fuori una conoscenza per fare salto di coscienza ma poi potrebbe anche esserci invece una rabbia inconscia qui c'è la memoria di un pericolo nell'inconscio allora attenzione qual è l'immagine il regno spirituale è pericoloso il regno spirituale è pericoloso se non contatto quella rabbia non arrivo alla riconciliazione degli opposti anzi quello che io non voglio vedere perché è troppo doloroso lo reprimo in realtà qui c'è paura di entrare in quella caverna l'inconscio ci metto una pietra davanti ed è questa l'immagine fondamentale è questa l'immagine che mi è arrivata e vi ho detto è già nel suo nome Piero Angela metto una pietra davanti alla caverna l'inconscio dentro la quale c'è il messaggero di Dio l'angelo anzi l'angela la nonna morta di parto questa è la suggestione questa è la trasvalutazione delle immagini gli eventi che si manifestano nella storia familiare si fissano nell'inconscio sotto forma sotto forma di immagini e questa è la lettura che facciamo degli eventi vi ricordo che l'angelo il messaggero è associato a Urano Urano è il cielo l'acquario associato alla figura dell'angelo il messaggero l'informazione che arriva dall'invisibile io metto una pietra davanti alla caverna in cui c'è l'angelo l'angelo quindi Piero Capricorno Pietro il nonno Capricorno l'angelo Urano e questo Urano davanti alla caverna lo scorpione questa è l'immagine forte che a me è arrivata attenzione che la nonna che muore di parto che cosa cosa ci porta a vedere il femminile che crea il femminile che dà la vita muore quindi io reprimo rimuovo il femminile che crea perché muore attenzione a questo passaggio è importantissimo il femminile quindi l'emisfero destro la parte intuitiva la parte immaginativa l'anima le emozioni i sentimenti dà la vita e muore allora nel mio inconscio c'è l'immagine che mi arriva da mio padre che mi arriva ancora da dietro no? dal nonno perché Urano il nonno è Urano in psicogeneologia quindi nel mio inconscio si fissa l'immagine la convinzione che se io creo con il femminile muoio quindi questo femminile cioè il mondo dell'inconscio dell'invisibile lo chiudo nella caverna ci metto una pietra davanti la razionalità la logica il sistema patricentrico la tv di stato l'istituzione del matrimonio al quale resto fedele perché così sono al sicuro abbiamo detto che nel sistema c'è bisogno di sicurezza ma già suo padre che è nato capricorno anche lui con una luna congiunta Saturno e posto Urano tra l'altro suo padre mi ha colpito anche il fatto che lui stesso abbia detto in un'intervista non ho mai detto ti amo mia moglie tra l'altro sua moglie era una ballerina della scala ha rinunciato la sua carriera per seguire il marito quindi il femminile che crea la creatività l'arte il femminile che viene represso attenzione non sto esprimendo un giudizio lo ripeto più che posso perché è fondamentale capirlo mai ma questo non soltanto perché non dobbiamo esprimere un giudizio su Piero Angela ma non dobbiamo mai esprimere un giudizio su nessuno sul viaggio di nessuno compresi noi stessi compresi noi stessi io credo che ciascuno di noi debba fare del suo meglio ma ciascuno di noi è parte di un disegno più grande quindi noi non possiamo sapere non possiamo sapere se una persona sta facendo la sua parte oppure no dobbiamo inchinarci al mistero ecco poi noi non sappiamo bene come sono andate le cose però io direi che in questo tema natale alleggia anche un senso di colpa non sappiamo se questo nonno Pietro di cui Piero Angela portava il nome si è sentito in colpa perché in fondo lui ha messo incinta questa donna quindi la sessualità e poi questa donna è morta questa è una cosa che anni fa succedeva molto spesso quindi questo legame tra la sessualità e la morte non a caso si trovano entrambi in ottava casa quindi io innesco il processo creativo ma poi arriva la morte non sappiamo che rapporti c'erano tra questo nonno e questa nonna se si sia sentito colpevole se magari questo nonno Urano magari avesse anche degli interessi nei confronti dell'occulto della magia chi lo sa quello che mi ha stupito osservando questo tema natale è che qui c'è moltissimo potenziale intuitivo e creativo sicuramente lui ha fatto un gran lavoro ripeto io che sono sempre stata appassionata di scienze quando ero una ragazzina pensavo che però Angela stesse facendo una grande cosa a portare la scienza in tv vi ricordate un tempo ma credo ancora adesso insomma essere appassionati di matematica e scienze è una cosa che ti fa passare un po' per lo sfigato di turno no? e invece portare la scienza in televisione sdogana un po' questa cosa quindi questo bisogna riconoscerglielo oltretutto lo faceva anche molto bene ed era una persona anche molto signorile anche di spivito e infatti si vede anche questo però è chiaro è chiaro che questa chiusura proprio questo impegno a smascherare gli imbroglioni quindi questa chiusura verso l'invisibile è indice di una grande paura di perdere il controllo e questa paura di perdere il controllo che è tipica di ogni capricorno ma si vede molto bene in questo tema natale ci dice proprio questo una persona e chi parla di lui chi ha parlato di lui l'ha detto è una persona molto controllata doveva avere tutto sotto controllo molto compassata ecco se io avessi dovuto usare un solo aggettivo per definirlo avrei detto una persona molto compassata quindi non mi lascio andare alle emozioni perché ho paura delle emozioni e le emozioni cosa sono? la parte femminile questo urano questo nonno questo nonno che forse ecco la vita non vissuta dagli antenati questo nonno Pietro che magari avrebbe avuto una vita completamente diversa se la moglie non fosse morta di parto che magari è rimasto bloccato in quel dolore noi non possiamo saperlo tra l'altro sapete che urano nel tema natale rappresenta il trauma mentale allora qual è il trauma mentale rappresentato da urano urano in quinta in ariete il non riconoscimento da parte della società il bisogno di essere visto come speciale come superiore quindi qui come dicevo anche prima ci sono delle memorie inconsce ma si vede da più punti di fama ma poi di crollo di fallimento magari all'apice del successo una vita passata una morte improvvisa cummina del successo oppure qualcosa qualcosa del genere comunque appunto un movimento interrotto che c'è una paura irrazionale di perdere il controllo e anche un senso di colpa lo vediamo da Nettuno Nettuno in decima casa Nettuno retrogrino in decima casa che ci rimanda al dilemma carmico Nettuno Saturno decima casa governata da Saturno quindi lotta tra pragmatismo e misticismo bisognava arrivare a riconoscere che l'uomo è un essere spirituale che vive un'esperienza terrena Nettuno in decima è anche idealizzazione della società ma anche senso di colpa inconscio quindi qui c'è proprio questo conflitto tra la colpevolezza e l'impulso cioè una parte istintiva che vorrebbe andare verso quell'invisibile ma l'invisibile è pericoloso fa paura quindi lo rifiuto lo nascondo lo reprimo ecco perché lui gli ha fatto la guerra all'invisibile mi fa venire in mente un'altra serie Netflix nel video precedente vi ho parlato della serie sulle costellazioni familiari fra l'altro ero così entusiasta che mi sono pure dimenticata di dirvi il nome il nome della serie sulle costellazioni è Another Self è una serie turca c'è un'altra serie turca bellissima in onda su Netflix sono tre stagioni e si chiama The Gift il dono ecco mi fa venire proprio in mente la figura della madre non vi dico molto se no poi faccio spoiler non va bene però c'è questa figura della madre nella serie The Gift che addirittura nasconde sua madre perché era considerata una strega una maga faceva del male eccetera eccetera che cosa vuol dire reprimo quella parte con tutta una serie di conseguenze che se vedete la serie troverete ecco mi viene in mente proprio questa cosa c'è un dono un'intuizione che però fa paura perché perché nella famiglia c'è un'immagine che collega l'invisibile a un dolore grandissimo come può essere la morte la morte di parto lo spirito combattivo si trova anche nella luna la luna in ariete ricordiamo che la luna rappresenta l'ego l'ego è il mezzo attraverso il quale noi integriamo realizziamo l'intento evolutivo dell'anima la luna rappresenta il lato istintivo lo schema che ripetiamo a livello emozionale lo ripetiamo perché è quello che ci dà sicurezza ed è quello che abbiamo sviluppato nelle altre vite e la luna rappresenta anche quello che ereditiamo dalla famiglia sia attraverso il dna sia attraverso l'ambiente emozionale nel quale cresciamo e viviamo ok e mostra anche il tipo di nutrimento di cui abbiamo bisogno quindi ha a che fare con la sicurezza emotiva una luna in ariete non tollera la frustrazione io non voglio entrare troppo in questo discorso perché non mi interessa più di tanto andare a analizzare quali potevano essere le dinamiche affettive ripeto stiamo parlando di un uomo nato nel 28 che ha passato la guerra con questo padre che era una figura molto forte lui l'ha definito austero un uomo di altri tempi però comunque anche molto coraggioso con grandi ideali ha rischiato la vita per salvare gli ebrei e chissà questa madre di Piero Angela com'era non abbiamo modo di saperlo però sicuramente una luna in ariete congiunta a Giove a retrogrado quadrata a Plutone possiamo immaginarci magari una madre molto presente ma poco contentiva dal punto di vista emozionale una luna in ariete comunque nella sua versione ombra diciamo appartiene a qualcuno che in passato era abituato avere il comando ha paura di essere debole quindi ha bisogno di continue rassicurazioni sul suo valore fino a quando non fa il salto e allora diventa sì il cavaliere nella sua armatura lucente che difende coloro che hanno bisogno di aiuto una luna in sesta cerca ordine sicurezza proprio nelle sue abitudini nel suo stile di vita però ecco non voglio poi fare troppi come dire andare a vedere troppi dettagli perché dico sempre il tema natale non va interpretato con l'emisfero sinistro non si interpreta facendo un'analisi minuziosa di ogni aspetto di ogni dettaglio a me non interessa io lo 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 ripeto spesso anche le persone che hanno seguito il percorso astrologico per fare anima non è poi così importante sapere qual è la dominante il pianeta in esilio in caduta queste sono minuzie tecniche a volte servono solo a confortare l'ego dell'astrologo in realtà quello che ci interessa quando una persona viene da noi e ci porta un disagio e ci chiede aiuto è comprendere qual è l'immagine perturbata nel suo inconscio che deve essere pacificata perché è lì che si fa il salto quantico ok il salto quantico si fa trasformando la conoscenza in coscienza la conoscenza in coscienza quindi urano urano questo urano leso che può rappresentare in astro psicogenologia il nonno pietro di cui lui porta il nome questo urano ve lo ricordo è il subconscio è la cassa è urano che mi porta fuori dai limiti della mente inferiore che mi porta a trasformare la conoscenza in coscienza allora a questo punto andiamo a vedere l'asse dei nodi questo perché mi dà anche modo di fare un'altra precisazione importantissima attenzione quando andate sull'effemerdi a cercare i nodi oppure andate su astro.com e selezionate le opzioni indicate che sia riportato il nodo vero non il nodo medio se volete avere informazioni su cosa sono i nodi trovate anche dei miei articoli altri video in cui ne parlo sapete che i nodi sono dei punti sono i punti dove si incontrano l'orbita del sole e della luna quindi hanno a che fare con l'eclissi lo sappiamo ma andate a vedere il nodo vero non il nodo medio perché il nodo medio non tiene conto delle oscillazioni e del moto retrogrado e diretto dei nodi i nodi si muovono sempre di moto retrogrado a volte apparentemente di moto diretto sapete che parliamo sempre di moti apparenti ma noi leggiamo il significato simbolico ok quindi nodo vero e se guardo il nodo vero io mi accorgo che nel tema natale di Piero Angela è a zero gradi dei gemelli il nodo nord zero gradi dei gemelli diretto e il nodo sud è a zero gradi del sagittario questo cosa vuol dire? siamo in un grado critico innanzitutto nodo nord in settima casa in gemelli nodo sud prima casa sagittario quindi anche qui arriva da una vita in cui aveva un ruolo di leader molto in vista molto concentrato su di sé sul suo sistema di credenze la mia è la verità assoluta sagittario difendo il mio sistema di credenze non ascolto gli altri rimango solo su di me questa cosa si vede molto bene anche da Giove vi ricordo che Giove indica anche il sistema di credenze no? quindi Giove retrogrado in sesta casa in toro fisso anche Mercurio in capricorno fisso faccio fatica a cambiare idea ok? nodo nord gemelli in settima casa devo ascoltare gli altri devo aprirmi agli altri devo confrontarmi con gli altri e adesso arrivo a Plutone in una casa ci dice che questa persona è arrivata con tantissima conoscenza un'anima che si è incarnata molte volte in luoghi differenti con culture diverse conosce molte lingue molto curiosa ma deve imparare che la verità non è assoluta quindi per chi ha Plutone non a casa la sicurezza emotiva è legata al sistema di credenza ha bisogno di trovare la spiegazione cosa lega l'uomo all'universo quindi veramente sorprende come Pierangela non abbia aperto alla trascendenza ma non sappiamo se magari dentro di sé abbia fatto qualche salto di questo tipo l'intento evolutivo di una persona con Plutone non a casa è proprio imparare che la propria versione della realtà le proprie credenze i propri principi etici e morali sono relativi quindi l'individuo sta imparando che ci sono tante strade che portano alla verità che ogni persona ha il suo percorso il suo modo per scoprire la verità deve imparare a comunicare in modo logico chiaro per potersi relazionare all'altro nel suo contesto e questo direi che l'ha fatto molto bene però è sicuramente portato all'insegnamento ma non all'indottrinamento quindi analogamente guardate Plutone in nona attiva l'asse Plutone punto di polarità di Plutone che è il punto opposto asse nona terza cosignificante di sagittario gemelli quindi questo discorso del essere un insegnante anche Venere in terza ci dice che era una persona con questo dono che gli porta abbondanza sappiamo che Venere dove si trova ci dice quali i nostri risorsi i nostri talenti dove io posso trovare l'abbondanza in terza casa nella comunicazione ok abbiamo visto come poi questa questa Venere non si sia espressa totalmente al meglio però però ecco che quel Plutone nona ci dice chiaramente che la persona deve sviluppare il proprio intuito e non deve cercare di convertire gli altri al proprio punto di vista però ci dà anche una grande onestà una grande rettitudine grandi valori la capacità di ridere di ridere anche di se stessi infatti come dicevo aveva anche spirito quest'uomo doti narrative amore per la natura quindi insomma su molte cose sicuramente ha lavorato ecco manca questa apertura all'invisibile dicevo è importantissimo quel Marte in gemelli a 29 gradi in ottava casa perché ci mostra proprio quanto accedere all'inconscio fosse fondamentale accedere a queste immagini transgenerazionali ecco io voglio ribadire ancora una volta che non posso sapere esattamente come sono andate le cose non posso sapere se lui ha fatto il percorso che la sua anima aveva previsto che lui facesse di sicuro qui è molto importante la figura del padre come sempre per un capricorno molto spesso un capricorno ha un irrisolto col padre deve risolvere qualcosa che ha a che fare con la famiglia del padre molto spesso il capricorno perde il padre presto o comunque una figura paterna molto severa molto autoritaria molto distante emotivamente il padre di Piero Angela Carlo Angela ripeto è stato un medico neuropsichiatra anche un politico aveva anche lui come dicevo Mercurio in capricorno ma aveva Marte e Lilith in scorpione e la luna congiunta a Saturno è appostata a Urano quindi la mancanza della madre nel tema di Carlo Angela si vede molto bene per quanto riguarda invece il figlio Alberto Angela so solo che è nato di mattina curioso che invece non si sappia assolutamente nulla della figlia di Piero Angela sembra veramente che il femminile all'interno di questa famiglia Alberto Angela ha tre figli maschi tra l'altro quindi ecco anche qui può darsi che Alberto Angela sia lui come dire deputato a continuare questo lavoro Alberto Angela ha uno IOD forse due nel tema natale sapete che lo IOD indica un forte nodo transgenerazionale che deve essere sciolto quindi magari magari tocca a lui fare questo passo avanti questa apertura verso l'invisibile io mi chiedo vi lascio con questo interrogativo che in realtà è quello che mi faccio sempre mi faccio sempre questa domanda mi chiedo ma quando non riusciamo ad arrivare a un certo obiettivo che traspare dal nostro tema natale non ci arriviamo perché sbagliamo noi o perché magari era previsto che non ci arrivassimo perché il nostro compito era quello dovevamo fare quel pezzo di strada noi siamo tutti connessi tutti guardate The Gift perché ve lo mostra molto bene siamo tutti connessi e a maggior ragione all'interno della stessa famiglia quindi e se questo suo opporsi all'invisibile sia stato in qualche modo funzionale all'invisibile stesso in fondo suo padre ha mentito per difendere la verità riflettiamo su questa cosa mentire per difendere la verità è molto capricorno ascendente scorpione questa cosa suo padre ha mentito perché ha nascosto ecco questo forse non ve l'ho detto ma ha nascosto nella clinica in cui lavorava in cui era direttore sanitario degli ebrei facendoli passare per malati di mente ha salvato delle persone c'è anche un documentario prodotto dalla RAI qualche anno fa su questa vicenda che ho guardato proprio per cercare di capire meglio alcune cose quindi a volte si mente per difendere la verità magari a livello inconscio però funziona comunque e se questo fosse scritto se questo suo ruolo fosse scritto e se adesso questo compito passasse nelle mani del figlio magari dei figli di suo figlio d'altronde ogni anima appartiene alla sua epoca suo padre era anche un massone e anche lo stesso Piero Angela era iniziato alla massoneria credo lo chiamassero fratello io adesso non conosco bene la massoneria quello che ho capito però è che ci sono diversi tipi di massoneria che quella egizia quella originale apre assolutamente all'occulto all'invisibile ovviamente si occupa dell'anima mentre c'è una massoneria che era appunto quella a cui apparteneva Carlo Angela che chiude totalmente elimina tutto ciò che ha a che fare con l'invisibile il femminile ricordiamoci questo che l'invisibile è il femminile e il visibile è il maschile il razionale il logico quindi qui c'è il sentire il pericolo il femminile che crea muore questa è l'immagine bene ripeto vi ho condiviso queste mie intuizioni perché ho pensato che potessero essere utili per comprendere come lavoro davanti a un tema natale auguro sicuramente buon viaggio a quest'anima e il fatto che suo figlio gli abbia augurato buon viaggio vuol dire che non è così vero che non crede nell'invisibile e quindi chissà chissà se magari in futuro verrà proposta qualche trasmissione televisiva che aprirà un pochino di più a questo mondo anche da parte di Alberto Angela in ogni caso fatemi sapere se questo video vi è piaciuto se vi interessano altri video di questo tipo se vi è piaciuto potete anche condividerlo mettete un bel like se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e naturalmente la cosa che mi interessa di più sono i vostri commenti ai quali magari a volte non rispondo ma vi assicuro che li leggo tutti e ne trago sempre ispirazione ci vediamo prestissimo con il video dedicato a Marte in Gemelli che riguarda tutti noi a presto e un grande abbraccio buona giornata a presto